il risultato casuale la prestazione no adesso questa è la quinta buona prestazione del sutero sono arrivati anche risultati segno che insomma la mentalità di questa squadra è un po cambiata nell'ultimo mese e mezzo io credo che i ragazzi l'abbiano dimostrato da subito di avere una voglia una determinazione che ripeto non è non è solo il momento della partita che il momento finale il momento culmine dove tu vai a raccogliere quello che hai maturato poi durante il corso della settimana credo che lo stia dimostrando ogni allenamento che proponiamo con grande intensità con grande voglia ecco perché c'è da rimanere fiduciosi e ottimisti nel momento in cui ripeto continuiamo a mantenere alti livelli di 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 attenzione e di attitudine a migliorarci quotidianamente ecco mister verrebbe da dire oggi al druso abbiamo visto la prima classifica il sutero ha giocato meglio della prima classifica ergo il sutero può giocarsela con tutte o deve giocarsela con tutte allora io credo che noi dobbiamo rimanere molto con i piedi per terra ma non perché non dobbiamo pensare non dobbiamo essere ambiziosi ripeto noi siamo una squadra che è in questo momento in una fase evolutiva diciamo che siamo un po work in progress dobbiamo cercare secondo me di di migliorare molte cose che abbiamo quindi ripeto abbiamo delle ottime opportunità di poter essere competitivi però ripeto mantenendo alla base di tutto l'aspetto dell'attitudine e la volontà poi di di crescere giorno per giorno se c'è quello è chiaro che noi abbiamo delle buone opportunità di farlo sabato si chiude il 2014 con una trasferta difficile sul campo della della gianna erminio sarebbe fondamentale a questo punto non solo per la classifica anche perché poi come ha detto lei per poter lavorare meglio tornare con una vittoria un risultato positivo quanto meno credo che sia importante fare una prestazione importante continuare pensando che le prestazioni portano al risultato e non viceversa se noi pensiamo questi siamo convinti che ogni volta la squadra esprime calcio esprime intensità di fare calcio quindi non è solo correre per correre ma correre bene essere compatti essere squadra se facciamo quello noi abbiamo delle buone opportunità di ottenere anche risultato ma il presupposto e la prestazione mister oggi come mai i cambi così tardi così nel finale perché la partita era abbastanza bloccata perché il campo non permetteva secondo me una gestione ottimale e perché di fatto quelli che erano dentro fino a quel momento secondo me hanno dimostrato grande equilibrio e l'assetto secondo me tutto sommato stava mostrando di non avere problematiche particolari per cui tutto sommato credo che il cambio non è che uno lo deve fare perché lo deve fare per forza perché è scritto in quel momento là ho ritenuto che anche parlando con 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 i collaboratori con mazzella e con nabiuzzi che le condizioni di quelli che erano in campo fossero ideali per continuare la partita poi chi è entrato ha fatto ha fatto bene anche per pochi minuti ma ripeto questo è quello che il sottirol deve avere deve avere il supporto da parte di tutti i giocatori che che magari non sono entrati dall'inizio ma che anche per un minuto 30 secondi possono sanno che possono cambiare le sorti della gara